secondo il mio modesto parere quella del personal trainer è del tutto frutto di una vera e propria vocazione specialmente se lo questa professione la si esegue a distanza online infatti abbattendo i confini del tempo e dello spazio si entra in contatto con una varietà infinita di persone che richiedono il servizio che pur non essendo dal vivo rende inevitabilmente il rapporto ancora più stretto personalmente il progetto di personal trading online dentro alla mia testa è partito come idea nel 2014 e soltanto a fine 2019 sono riuscito finalmente a concretizzarlo è lecito chiedersi perché tutto questo tempo semplicemente perché nonostante decenni a macinare ghisa ferro ad allenarmi ero consapevole che mi servisse una formazione più approfondita e strutturata e al tempo stesso mi rendessi meglio conto di cosa fosse l'ambiente del fitness sia dentro il web che fuori personal trainer a distanza coach online non si diventa da un giorno all'altro insomma non ci si alza un giorno e si dice oggi voglio fare il personal trainer online no no perché rispetto a un lavoro in sala pesi o in uno studio privato è tutt'altra storia al di là della formazione tecnica un buon personal trainer a distanza deve trasudare benessere e bellessere deve dare per primo l'esempio un esempio derivato da come si mostra da quello che comunica o scrivendo o dei video come sto facendo io sia privatamente che pubblicamente deve essere una persona capace di entrare nella mente dei propri ragazzi dei ragazzi che segue percependo e cogliendo ogni singola sfumatura e loro parole dalla loro voce dai loro dubbi dalle loro incertezze da ogni tipo di richiesta di informazione deve saper motivare in modo molto profondo e trasmettere in modo chiaro semplice e lineare le varie tappe del percorso che si andrà ad intraprendere insieme insomma essere un personal trainer online a distanza non è sparare a destra e a manca schede fotopopiate a n persone non è spillare i soldi ciucciare i soldi alla gente per poi dire ok fatti sentire tu e vedere se sei veramente motivato a continuare una consulenza a distanza significa camminare fianco a fianco con pazienza costanza e con la consapevolezza che si possa durante il percorso cadere sbagliare ma ogni volta rialzarsi insieme più forti e più motivati di prima questo grazie a programmi unici unici tagliati sulla persona perché ogni essere umano è unico è un esemplare unico e ogni programma di allenamenti deve essere adattato a quella persona la fuori di coach online ce ne sono un'infinità un'infinità me ne sono reso conto anch'io quando ho cominciato me ne continuo a rendere conto si trova di tutto personaggi fantastici con una maschera gente che si spaccia per natural chi fa il finto ricco chi ostenta foto di prima dopo magari copiate rubate da altri siti o comprate da servizi appositi chi non fa altro che girare video con la giacchettina dietro la scrivania a insegnare fare scrivere libri magari mettendosi a criticare questo o quello tutti esperti tutti tuttologi sanno tutto scrivono ma ma alla fine chi veramente si mostra per quello che è chi si rimbocca le maniche e lui stesso lui stesso applica quello che sa suda si allena e offre un servizio veramente di qualità qui arrivo alla domanda principe del video tu che stai vedendo questo video perché dovresti scegliere me la risposta è molto semplice perché io personali sandro sono esattamente come te ho vissuto gli anni in cui mi allenavo cinque volte a settimana con allenamenti che duravano quattro ore mangiavo come l'uncellino nessun risultato degno di questo nome sperato e ottenuto spendevo fiumi di soldi integratori spesso inutili sono stato studente ho cominciato a lavorare a tempo pieno ho messo su una famiglia e durante tutto questo percorso di vita ho continuato a studiare sperimentare infarando e modificando le mie tipologie di allenamento in base al tempo a disposizione per renderle più efficaci al tempo stesso efficienti dunque quello che voglio dirti quello che voglio trasmetterti è che tutto ciò che tu in questo momento sta vivendo molto probabilmente io l'ho già vissuto e lo sto vivendo tuttora per quanto mi riguarda il corpo che ho sempre desiderato alla fine l'ho ottenuto e sto ancora lavorando per questo ma adesso è il tuo turno ora ci devi riuscire anche tu perché credimi che se lo desideri e lo vuoi veramente con me lo voglio ottenere quindi quello che ti dico questo momento è semplicemente che ti aspetto nell'attesa di intraprendere un percorso insieme ti ricordo come rimanere in contatto con tutto il materiale che fornisco gratuitamente su web iniziamo da questo canale ti vuoi iscrivere così ti arriveranno le notifiche di tutti i video nuovi che inserirò direttamente via mail o come notifica c'è la mia pagina facebook alexluciopt.com il gruppo facebook io credo nel fitness anche il profilo instagram alexluciopt insomma hai l'imbarazzo della scelta riguardo i canali social e web che puoi utilizzare a non dimentichiamoci il del sito web alexluciopt.com a presto davvero non vedo l'ora di lavorare con te ti aspetto ciao 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 ciao